A frenare sull'ipotesi più radicale, quella di sciogliere l'Assemblea Capitolina, è stato questa mattina il ministro Angelino Alfano, che dalla sede del Consiglio dell'Unione Europea ha fatto sapere che bisogna andarci con i piedi di piombo. Il commissaramento del Comune è un procedimento molto complesso, il sindaco Marino non è coinvolto da queste vicende e Roma è una città sana, detto Alfano. Sulla stessa linea d'onda anche il presidente del Senato, Piero Grasso, che incontrando gli studenti all'auditorio in Parco della Musica, ha spiegato che per sciogliere un comune ci vuole ben altro, visto che soltanto alcuni sono coinvolti e il comune è al di fuori di queste tematiche. Poi però, parlando dell'inchiesta, ha detto che ci sono tutti i presupposti per l'aggregazione mafiosa e che l'area grigio di cui abbiamo sempre parlato, come punto di collegamento tra mondo legale e mondo illegale, oggi si è resa autonoma assumendo interamente il metodo mafioso. Intanto il sindaco Marino, a cui ieri è stato consigliato di accettare la scorta, è tornato a spiegare la circostanza della foto che lo ritrae insieme a Salvatore Buzzi. Ho visitato la cooperativa 29 giugno per il reinserimento sociale durante la campagna elettorale, ha scritto sul suo profilo Facebook. Le foto che girano sono state scattate in quell'occasione. È incredibile che mentre escono intercettazioni in cui si parla di farmi fuori, si cerchi di alzare un polverone su una visita pubblica fatta alla luce del sole.